bella ragazzi sono qua su un nuovo video oggi ragazzi andremo a vedere la mia nuova postazione non è una postazione vera proprio diciamo la mia nuova stanza però è una postazione per me che ci gioco ancora ci gioco e tutto a gioco studio dormo e tutto dove passo più tempo il pomeriggio diciamo più tempo dai e vi faccio vedere dove faccio ragazzi per questo video voglio minimo 30 mi piace assolutamente perciò ragazzi arriviamo anche a 300 iscritti comunque volevo lo volevo fare questa settimana non ci sono le partite ho detto vabbè questa settimana metto video perché i video non li metto sempre ho detto abbonato video tengo un po di spizio e me lo passo ok oggi andiamo a vedere la mia stanzetta perciò ragazzi andremo a vederla come composta voi non poco la sapete perché ho messo che posta immagine su instagram faccio seguitemi suisa alex guasta 14 e alex guasta per tino passo 14 ragazzi andiamo a vedere qua dentro sta tutto il combinamento tutto ho preso perché cosa l'ikea ha speso più di 500 euro lega perciò non me dite niente ho voluto sistemare perché non mi piaceva dico la verità mosso da solo e tutto ancora più comodo eccetera adesso ad aprire questa volta qui e niente ragazzi entriamo ho aperto la porta vedete qua ok subito abbo ho anche un po pitturato che era prima era sporchissimo chiudo la porta ok qua ho pitturato tutto come la prima bianco alla prima cosa che voglio far vedere è questa luce vedete ragazzi questa luce qua questa è una luce che si accende così questa è una luce che ho preso al di che a non non so quanto costa però sempre sui 15 20 euro pagata è una bella luce però la leverò prenderò la led che fa un po tutti i colori un po blu cambia colori per ogni secondo e questa quella le vero sicuramente anche se è bella flessibile eccetera ci sta dai poi allora questa cosa già c'era la televisione del agai pagata pochissima regala non è tanto c'è l'ho presa perché 200 euro e anche smart tv perché tengo mi scarico perché applicazione sulla smart tv pagano 100 euro quella che mi serve la smart tv anche bella grossicella per una stanza come sto io è comoda è tutto poi la prima cosa è un tappetino grandissimo non so se la vedete qua come lo faccio vedere subito il tappetino è grande parte da qua e finisce da qua poi dove c'è subito il computer questo compito che se il comando telecomando per la tv non importa comunque se è il computer portale che tengo sempre caricato anche se lo porto lo stacco e porta uso per fare video vedere di video eccetera anche per studiare per una ricerca può essere importante qua tengo la mia playstation 4 con ipad e quasi gioco sempre c'è una postazione di così o vedete qua tengo una bella sedia da gaming rega pagata sui 100 euro una bella sedia comoda e tutte mi metto sempre così allora non c'è come sto vedete qua la sedia e io così metto e gioco da così e vedo la tv davanti c'è visto così e poi devo una bella televisione ci gioco vedo la tv però se vedo la tv non mi metto così perché prendo qualche porto di panetto metto qua la sedia mi sposto per destra e faccio mi metto sulla letto che ho comprato perché questo letto non c'è te ne coprivo il letto a castello e ho cambiato questa stanza poi prima era tipo uno studio è diventata con questa la stanza mia personale tra virgolette persona comunque me trovo bene da poi ho comprato questa scrivania tutta nera vedere se tutta nera bella scrivania veramente grande diciamo non è tanta grande però per quello che ci devo fare è quasi il po è il giusto anche se un po di spazio non c'è perché c'è la porta di allai non entra dice non c'è potrà entra però la rivesto bene per perché quando faccio che ne so qualche partita fifa qualche fortnite eccetera faccio un gioco io so che faccio lega quando gioco tipo il foot champions mi metto apre il computer mi tocca e canzone ha messo bello modo in faccia partita e si sta bene perché la cosa della di stare bene in casa eccetera almeno questo poi abbo qua che vi faccio vedere se mettete fuori allora questo è un letto al nuovo questo letto che altri cassetti riga un belletto un bel letto vediamo vedete questo qua regalito sto macello e tutto perché ho comprato oggi una cosa questa spina e questa spina che tiene 6 6 12 così qua 6 12 spine e metto carica il telefono eccetera a tre cassetti qua tengo altre due cose che non devo stare assolutamente quale coperte troppo vabbè ma bu qua questa libreria riga tengo libri chi mi nascola con me sai se libri che usiamo va bene va bene perciò saluto la mia classe ciao riga se vediamo il video è tutto comunque qua tengo tutto vabbè alla fine tutto poi con la rogine napoli un po tutto lo spazio quando farò che racconto la faccio vedere poi qua si rientra qua lega c'era questa cosa qui adesso armadio e c'era qua questo armadio questo è il mio armadio personale tutto anche un altro armadio qua tengo vabbè comunque qua tengo dove metto le scarpe e tutte le scarpe domani cambierò anche quante ragazzi comunque vabbè come alla fine come la vedere così io so cosa fare questo mare disponibile imparare a nuotare adesso dei pianino che non ti so guardare questo è tutto rega e che vi devo far vedere più comunque io della verità quest'anno gioco di più di per esempio questa playstation l'ho cambiata da poco cioè io almeno la notte se la sera anche sabato domenica sera che io rega gioco fino a tardi così tanto sono qua e dormo qua posso giocare cioè però mi metto qua poi mi andò a fare che ne so da di là è tutto va bene rega io penso che mi posso guardare la mia stanza andate un punto anche la mia stanza il video ci ho migliorato perciò ragazzi noi ci vediamo un prossimo video ah non mi ho fatto un attimo sta lampada bisogna prendere lì che aspetta un secondo vedete dopo prima qua e se passa bello e niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale seguitemi su istra alexguastra14 di alexguastra14 noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi aspettate bel saluto a tutti ciao